eccoci qua ora una precisazione allora guardate bene le istruzioni questa è la mia olight che abbiamo visto prima qui la scatola è sempre peggio allora come funziona? allora qui c'è un comando doppio che accende la lampada 1200 lampadine si può accendere e spegnere da entrambi i lati quindi è indifferente posso accendere a destra e posso spegnere a sinistra o viceversa o con lo stesso tasto allora la funzione strobo di cui avevo parlato prima si attiva premendo a torcia spenta in contemporanea entrambi i pulsanti ecco questa è la funzione strobo adesso spengo piano piano le luci della sala ecco qui questa è la funzione stroboscopica della torcia olight ora riaccendiamo le luci ecco premendo un pulsante si spegne e la torcia è spenta definitivamente ora questa adesso la monterò sul micro ruoli più tardi ma ecco l'ultima precisazione che volevo fare sul funzionamento di questa torcia che a me sembra un ottimo prodotto o quantomeno un buon prodotto in relazione al prezzo pagata 78 euro scontata offerta lampo altrimenti sui 100 euro su amazon ecco qui la torcia valkyrie pl2 di olight per stasera è tutto buonanotte ecco ecco qui ecco qui ecco qui